potente segreto così che ti chiami in dieci minuti. Allora qual è un potente segreto così che ti chiami in dieci minuti? È un segreto che sfrutta un bias degli esseri umani. I bias cosa sono? Sono degli schemi, degli schemi che la persona non riesce a gestire consapevolmente, quindi generano automaticamente delle azioni senza riflettere, senza pensare. Ovviamente poi la parte logica interverrà successivamente per cui per diciamo dissonanza cognitiva prendere atto di quello che è stato fatto e quindi trarrà le conclusioni. Cosa significa questo? Che se una persona fa delle cose per te, agisce, interagisce e si comporta diciamo in modo tale da manifestare alcune cose, è evidente che questo è fondamentale. Questo è fondamentale per quale motivo? Per il semplice fatto che nel momento in cui ti dedicherà delle energie, ti dedicherà del tempo, farà delle cose per te, la conclusione ovvia è ma io lo amo, ma io l'amo in questo caso e quindi tu devi creargli delle guest altaperte. Come puoi fare? Beh, ad esempio puoi mandare un messaggio, un messaggio vocale, un messaggio di qualunque natura dove gli vai a stimolare praticamente molto molto rapidamente quelle che sono le sue, i suoi, i suoi turbamenti. Lasci un qualcosa di insoluto. Gli dice ad esempio una frase del tipo ah ma sai che, ma in vocale, mi hanno parlato molto bene di te, mi hanno detto una cosa estremamente interessante oppure sai che cavolo ho parlato con una persona che non credevo che tu facessi queste cose per dire. Oppure potrebbe essere semplicemente un messaggio dove dice ah mi hanno detto che ti hanno visto o ti ho visto, ti ho visto a Milano, che ci facevi in quella via? Ti inventi tu ovviamente. Non è che devi essere in quella via, non è che devi essere da quella parte, mandi semplicemente qualcosa che generi hype, che generi aspettativa. Questo è fondamentale perché a quel punto lì la persona ti cercherà sicuramente. Ti cercherà perché, oppure puoi anche inventarti e dire una frase del genere ah ti ringrazio per come ti sei comportato con. Ovviamente se tu immagini che lui abbia diciamo un problema relativo a qualcosa devi andare a toccare quel tasto lì. Quello è molto importante. Nel momento in cui capisci che lui ha un problema di qualsiasi natura legata a un qualsiasi evento, diciamo così, deve andare a stuzzicare quell'evento, deve andare a stuzzicare quella cosa. Questo è molto importante perché diciamo che quando noi abbiamo un turbamento e i problemi di fatto sono solo turbamenti perché altrimenti non avremmo un problema. C'è chi ha il turbamento di essere colto in fallo, di essere colto in fragranza, di fare delle cose inique, di fare delle cose sbagliate. Insomma chi ha disistima teme tutto, chi teme il giudizio teme di essere giudicato. Ah sai che per dire mi hanno detto questo di te, una persona a te vicina mi ha detto questo di te. Insomma questo è molto importante perché chiunque di noi in un modo o nell'altro comunque ha dei turbamenti. Capisci che ha beccato un turbamento quando questa persona ti cercherà istantaneamente. Come fare a capire quali sono i turbamenti che vive la persona in un particolare momento? Beh non è molto difficile, basta utilizzare il linguaggio non verbale, basta avere modo di interagire con la persona. Tieni presente che devi andare a toccare il tasto giusto lasciando su quel tasto lì una gesta alta aperta, ti richiamerai in dieci minuti. I turbamenti possibili che tu puoi andare a stimolare sono la paura dell'abbandono affettivo, cioè la paura di essere abbandonati. Questa magari è successa anche 50 anni fa, 30 anni fa, non importa quando, la prima volta, ma questa prima volta ha generato un imprinting e quindi la persona quando gli farà intendere che qualcosa o qualcuno, insomma che perderà qualcosa, si scatenerà subito questa energia e subito cercherà di fare in modo di capire come mai, che cosa, verrà compulsivamente spinto all'accertamento. Poi abbiamo ovviamente il timore del giudizio, persone che temono il giudizio, come dicevo, persone che temono di vivere o che tendono a vivere dei sensi di colpa. Ah ma hai proprio fatto, tua madre come sta? Povera donna, chissà cosa le avrei fatto, soffrirà così tanto per te da avere un crepacuore. Ecco quindi andare a stuzzicare queste cose va subito a creare empatia, va subito a creare tensione, quella tensione che coinvolge. Poi abbiamo giudizio, senso di colpa, abbiamo la disistima, persone che temono di essere disistimati, quindi abbandono affettivo, paura del giudizio, disistima, paura del rifiuto, il timore di essere rifiutati, il timore di essere comparati in modo fallimentare a qualcun altro. Sono tutte, tutti serbatoi, la paura di essere svergognati praticamente e la paura di essere condizionati, di essere condizionati a fare delle cose che non vorremmo fare. Quindi certo che tu a non fare questo ne pagherai le conseguenze, perché chi teme di essere condizionato si aggancia in qualche modo su chi lo condiziona. Ecco queste sono tutte le strategie che tu devi utilizzare attraverso un messaggio. Stai sicuro che ti cercherà. A quel punto lì non ti conviene rispondere perché devi farti cercare due o più volte. Se lui non ti cerca più vuol dire che certo il fatto hai toccato ma non del tutto. Se lui invece inizia, ti chiami una volta, non rispondi, poi continua a chiamarti, è perché hai fatto proprio bingo, diciamo così, hai proprio colto nel segno. E questo, già il fatto di chiamarti più volte, alla fine lo farà coinvolgere sempre di più. E poi avrai trovato praticamente, come dire, un'emozione per tenerlo per le palle, perché attraverso quell'emozione potrai poi agire in tutti i modi per manipolarlo a tuo piacimento. Ecco, questo è un potente segreto per far sì che ti chiami in dieci minuti, così che ti chiami in dieci minuti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale. Ti ricordo di seguirmi anche sulla pagina Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci.